ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di è tempo di amare shingo oggi dobbiamo cominciare il decimo episodio dell'edizione degli amanti siamo arrivati praticamente al penultimo episodio e sono proprio curiosa di scoprire insomma quello che accadrà perché la scorsa volta abbiamo visto la raccolta fondi per salvare la vita di juta però purtroppo non è andata a buon fine quindi vediamo un po come si intitola questo nuovo episodio vento favorevole ok finalmente insomma un titolo che mi fa ben sperare che riusciremo a raccogliere i fondi necessari con permesso aspetta potrei avere soltanto una parola che cosa c'è hai detto davanti a noi che ti sei sempre sentita sola questa solitudine non è qualcosa che hai creato tu respingendo gli altri non è così tu assomigli un po al me stesso del passato ti addossi problemi che non puoi affrontare da sola senza chiedere l'aiuto di nessuno ma questo atteggiamento arrogante in realtà non protegge nessuno dopo aver conosciuto che era ho capito che ero io a creare la mia solitudine singo se è una cosa che non puoi affrontare da sola dovresti accettare la mano di chi ti è stata tesa lei ovviamente non parla noi ci siamo dati da fare per salvare il bambino non per te rifiutare l'aiuto di che era significa respingere coloro che volevano aiutare il bambino così sei tu a rendere quel bambino solo perciò non hai il diritto di dire nulla sulle sue intenzioni mi rivolgo ad utayama che non riesce a rispondere nulla alle parole di singo la verità è che voglio fare qualcosa per iuta anche se si trattasse di ipocrisia perciò vi fiducia e impegniamoci ancora una volta tutti insieme però non so neppure io come fare se coinvolgo ancora più persone aiuta non si dovesse salvare finirei per deludere tanta gente non abbiamo tempo perciò dobbiamo raccogliere i soldi il più in fretta possibile ma come sentendomi persa guardo in lontananza vedo lo staff che ha intervistato mutsu parlare con qualcuno se diciamo che non abbiamo molto tempo forse più persone si daranno una mano con questa idea corro verso lo staff ehi dove stai andando interrompo l'intervista scusate posso avere un secondo chi sei c'è una cosa che vorrei dire ai telespettatori questo è un'intervista relativa alle opinioni sull'evento prendo il microfono e mi rivolgo alla telecamera ehi un attimo lasciro che nadai social fair è un evento che si è tenuto per vivaciggiare la città però abbiamo anche colto questa occasione per raccogliere fondi destinati all'operazione di un bambino malato si tratta di un'operazione difficile in giappone sono necessarie delle cure all'estero abbiamo lavorato insieme per raccogliere i fondi ma non siamo ancora riusciti a raggiungere la quota necessaria non sappiamo quando si ripresenterà la prossima crisi al prossimo attacco potrebbe anche perdere la vita non abbiamo più tempo vi chiedo di aiutarci a salvare la vita di quel bambino ehi smettila subito mi viene strappato il microfono dall'intervistatore accidenti l'intervista rovinata andiamo cene da qui lo staff se ne va lasciandomi con parole fredde poi arrivano shingo e atayama che cosa hai combinato meglio di non provare a fare niente non volevo arrendervi che era sei arrivata fino a questo punto per lui atayama si avvicina tenendo la cassetta con le donazioni scusa per aver detto quelle cose voglio provarci ancora prendo la scatola con le donazioni però dobbiamo pensare ad un nuovo piano per ottenere soldi pensavo che la televisione sarebbe stata un buon mezzo per attirare un gran numero di persone a giudicare dal fatto che hanno sospeso tutto non credo si trattasse di una diretta l'intervista era basata unicamente sull'evento anche lo staff ti ha bloccata avranno sicuramente eliminato il pezzo di cui in cui parlavi no li hai solo infastiditi quello che ho fatto non è servito a nulla sconfortata dalla fredda considerazione di c di shingo abbassò la testa sicuramente arrivare all'improvviso e interrompere un'intervista non è una cosa di cui vantarsi ma il modo in cui l'hai fatto è stato perfetto shingo senza dover ricorrere alla tv ci sono altri modi per attirare l'attenzione del paese torniamo da viento e ascoltiamo l'idea di shingo adesso è lui ad avere avuto un'idea geniale avvalendoci dei social network e dei siti streaming lanciamo il nostro appello a tutto il paese in questo modo anche noi possiamo facilmente diffondere la notizia se il nostro appello sarà condiviso da molti potremmo raggiungere diverse persone non so se funzionerà ogni giorno su internet compaiono migliaia di post anche più piccoli perci è possibile che il nostro appello venga oscurato da altri più popolari ma se fosse una persona famosa a condividere il post avrebbe molta più risonanza di una persona normale una persona famosa in mezzo a noi chi c'è di famoso qui a lui tutti rivolgono lo sguardo verso muzzo eh io sei un parrucchiere carismatico a condividere le informazioni potrebbe attirare l'attenzione di tutti muzzo possiamo contare su di te ma certamente vi aiuterò se masaki collabora vi darò una mano anch'io sono la più conosciuta qui in mezzo dice davvero oh sì siamo arrivati fino a questo punto vi aiuterò fino alla fine vi aiuterò anche io ho tanti amici benestanti che possono diffondere la notizia grazie prendo la mano di tagliamo andiamo subito da aiuta e facciamo un video per raccogliere fondi sì bene allora prepariamoci in questo modo ci organizziamo nuovamente per raccogliere fondi qualche giorno dopo io e scingo andiamo a trovare aiuta in ospedale speriamo che sta bene aiuta potrai essere operato eh davvero sì guarirai dalla tua malattia evviva ma ce l'hanno fatta quindi come scingo aveva previsto gli appelli di muzzo e degli altri sui social network sono stati condivisi e hanno attirato l'attenzione di molte persone dopo aver visto il post anche la tv locale ha deciso di trasmettere la parte in cui compaio io riusciamo ad ottenere l'aiuto di diverse persone e a raggiungere la cifra necessaria non ci posso credere se l'hanno fatta grazie vecchi ah signorina iuta si correggia e sorride spensierato grazie però devi ringraziare questo ragazzo con gli occhiali non ho lavorato solo io per raccogliere i soldi hai ragione tutti no tantissime persone hanno dato una mano perciò dobbiamo far vedere loro quanto stare meglio sì juta annuisce e fa un sorriso quasi abbagliante poi il giorno seguente juta accompagnato da tayama si rega all'estero per subire l'operazione davanti all'ospedale arriva anche la televisione per riprendere juta in partenza io e scingo lo accompagniamo fino alla fermata dei taxi anche tu vai con lui hai forse lasciato l'ospedale no anche se all'inizio volevo dimettermi per il disturbo causato ma il direttore mi ha fatto restare e mi ha concesso il lungo permesso capisco è fantastico sì il direttore ha detto che era l'unica cosa che poteva fare per me veramente grazie non potrò mai ringraziarvi abbastanza no figurati sono sollevato che juta potrà ottenere le cure necessarie scingo accarezza la testa di juta e gli mostra un'espressione gentile meno male sì quando sarò arrivato ti scriverò una lettera sì l'aspetterò scingo è così gentile con i bambini il mio cuore sussulta vedendo un'espressione mai vista prima d'ora poi arrivano miura il direttore siamo venuti a salutare anche noi miura si abbassa di fronte aiuta iuta le cure saranno pesanti ma devi mettercela tutta qualsiasi cosa accada tra tutto bene c'è la mia sorellona con me hai ragione con i trattamenti chimici che fanno all'estero la tua malattia guarirà sicuramente sono felice che questo sia possibile sì grazie anche a te direttore stammi bene aiuta sì quando sarò tornato giocheremo ancora a presto a presto dopo esserci salutati i due salgono sul taxi mentre ci auguriamo che vada tutto per il meglio salutiamo aiuta e a tagliama diretti verso l'aeroporto e con questo abbiamo risolto un problema giusto io e mio padre torniamo in ospedale adesso sì buon lavoro grazie i garasci ottimo lavoro per oggi prediti la giornata libera sì grazie godetevi la giornata miura e il direttore ritornano in ospedale perché non andiamo da qualche parte non sarebbe meglio che tornassi a casa e riposassi un po non sono stanco è tutto a posto ho tenuto il giorno libero non avrebbe senso non passarlo con te su scegli tu dove vuoi andare facciamo una passeggiata vicino alla stazione sì ci può stare qualche volta pranziamo da qualche parte sì andiamo oh che bello che è finito tutto bene senza una meta camminiamo spalla spalla persino che nadai oggi è una bellissima giornata l'ideale per una passeggiata sì ancora di più perché tutto si è risolto per il meglio grazie a te i sospetti sul direttore sono venuti meno e abbiamo sistemato con a tagliama non solo questo anche il fatto che il bambino riesca ad operarsi è solo merito tuo hai fatto un ottimo lavoro grazie arrossisco per le parole di scingo in quel momento si leva un forte vento quando il vento si vlaga e riapro gli occhi scingo sta ridendo ehi hai una foglia tra i capelli nonostante complimenti che ti ho fatto questo è imbarazzante non dire così muoviti a togliermela ok stai ferma la mano di scingo raggiunge la mia testa mentre mi guarda dritto negli occhi avvicina il suo volto scingo di fronte alla sua espressione seria e alla poca distanza che ci divide il cuore comincia a battermi all'impazzata percepisco il suo respiro per quanto è vicino poi chiudo gli occhi ti sono baciati sento le sue dita sulle mie guance il cuore mi batte forte per l'attesa poi sento la sua voce te l'ho tolta eh sì altro che bacio quando lentamente apro gli occhi vedo una foglia verde nella mano di scingo cosa ha soltanto rimosso la foglia però mi ha toccato la faccia quando sollevo gli occhi i nostri sguardi si incontrano avevi una ciglia sulla guancia ah mi stringo nelle spalle scingo sorride pensavi che ti avrei baciato non so se di la prima o la seconda proviamo di la seconda ah è giusta perché ce lo hai scritto in faccia non è così nasconde il mio viso con le mani stupida è solo un modo di dire sei proprio carina non ti bacerei mai in mezzo alla strada su andiamo dopo essersi preso gioco di me scingo si incammina umiliata mi piazzo di fronte a lui lo tiro per la cravatta e eh e c'è un'illustrazione fantastica praticamente è stata lei a baciarlo brava ragazza è così che si fa in punta di piedi appoggio le mie labbra su quelle di scingo ehi in questo posto quando allontano le labbra forse per la sorpresa scingo sembra stranamente scosso non mi importa dove o quando io voglio baciarti se dici così allora va bene lo dice un po rosso in faccia trovo quell'espressione carina e mi viene da sorridere ancora una volta in risposta l'ho basso di nuovo wow ma che bello allora mi è piaciuto veramente tantissimo questo episodio è stato meraviglioso soprattutto per l'illustrazione la protagonista e scingo vanno al ristorante insieme leggono la lettera del ragazzo quindi lui ha scritto aiuta che pare stare bene meno male va e si tranquillizzano in quel momento si presenta un uomo e chi è quest'uomo che si presenta all'improvviso anche perché il prossimo sarà praticamente l'ultimo episodio vedremo il finale felice e non vedo l'ora io spero che questo episodio vi sia piaciuto se avete apprezzato l'illustrazione non dimenticatevi di lasciarmi un bel like se non siete iscritti vi ricordo di farlo e noi ci vediamo in un prossimo video ciao